Mi chiamo Gola Hundun e sono un artista italiano. Mi piacciono i muri alti e stretti perché portano lo sguardo direttamente verso il cielo, quindi un po' l'infinito e l'indefinito. Ogni muro ha la sua storia, la sua personalità. In più questo hotel è legato a un discorso di piante, di natura. Quello che io faccio è essenzialmente questo, cercare di portare un po' di natura là dove l'uomo ha portato via la creazione spontanea. E la soluzione della pianta che cresce in questo muro era perfetta perché ti dà quello senso di slancio verso l'alto, verso il sole, verso la fonte di energia. Ho voluto lavorare sul muro come se fosse una tela, quindi una finitura molto più sottile, molto più delicata. Mi piace perdermi nelle linee, mi piace perdermi nei piccoli dettagli che il pennello mi permette di fare. Sentire la textura del muro con le mani. Io spero che gli esseri umani che fruiranno di questo muro siano ispirati dal verde e spero che... mi piacerebbe trasmettere lo stesso amore che io provo per la natura e la stessa preoccupazione che io sento oggi per questo ecosistema. Spero che questo muro possa ispirarvi. Grazie a tutti i nostri amici.